Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Video per mostrarvi gli acquisti fatti da Tigota questa mattina e per anticiparvi il contenuto dei prossimi video. Vi chiedo subito scusa se vi sembro un po' sottotono ma effettivamente non so se notate il gonfiore abbastanza evidente del mio viso perché la settimana scorsa ho asportato un dente del giudizio dal dentista. È una settimana che ho molto molto male, non riesco a mangiare, non riesco ad aprire bene la bocca quindi non posso masticare e oggi ho scoperto di aver fatto una contrattura alla nascella. Ciò significa che a parte la terapia di antidolorifici che sono costretta a fare perché non riesco veramente nemmeno a parlare altrimenti dovrò continuare con un'altra settimana di dieta liquida praticamente, che ha anche i suoi vantaggi nel senso che la prova costume si avvicina e niente, quindi portate pazienza, sono un po' sotto sopra però ci tenevo perché sono tre settimane che sono assente e avevo qualche cosina da dirvi. Allora, questa mattina appunto dopo questa visita fantastica, anche un po' per passare il tempo per non tornare immediatamente a casa, sono andata da Tigota. Erano mesi che non andavo, che non compravo nulla e in questi mesi ovviamente ho potuto smaltire diverse cose. Io già non sono una compratrice seriale, quindi insomma i miei cestini beauty, chiamiamoli così, sono abbastanza ristretti. Ne volevo approfittare quindi per commentare, per fare delle osservazioni, dare dei piccoli consigli e poi per anticiparvi anche il contenuto dei prossimi video che riguarderanno il discorso della dermatite a livello del corpo che è un video richiestissimo ultimamente, quindi spero che mi seguirete con piacere e mi farete sapere che cosa ne pensate. Partiamo subito con il primo prodotto che è collegato sia al video dove vi spiegavo un attimino come funziona il sole e quindi perché è importante utilizzare una protezione solare, sia al video che vedrete pubblicato presto sulla dermatite sul corpo e si tratta della crema solare Cocco Bio Sun della ditta Sanecovit. Sono 200 ml, è una crema nickel tested, sei mesi è il periodo dopo il quale è possibile ancora utilizzarla una volta che è stata aperta e si vanta diciamo di avere dei filtri minerali quali l'ossido di zinco, ricordiamoci molto bene questo ingrediente e l'olio di cocco. Effettivamente guardando l'inci mi è sembrata molto ben formulata e per il prezzo di 4,90€ ho assolutamente voluto prenderla. Era l'unica che era disponibile a questo prezzo nel cestino. La trovo perfetta come consistenza, come profumazione che è molto leggera e non stucchevole perché ad esempio a me il cocco non piace e perfetta quindi anche come base trucco. Io l'ho già applicata sul viso subito quando sono uscita perché facendo anche il ciclo degli antibiotici, il ciclo di antibiotico la pelle purtroppo è fotosensibilizzata e devo dire che ormai sono un paio d'ore che ce l'ho su, non mi ha fatto assolutamente l'effetto unto, anzi la pelle è abbastanza morbida, poi sopra ho applicato il blush e mi piace quindi non posso dire niente fino a questo momento. Quindi qualora vogliate un prodotto che abbia un ridotto impatto sull'ambiente, che abbia un buon inci e sia funzionale ed economico, questo prodotto della Bioteca Italiana mi sembra un'ottima scelta. Un altro prodotto novità è il dentifricio di Colgate, che noi chiamiamo Colgate ma sarebbe Colgate, è disponibile in due varianti, Protection oppure Whitening. La scatolina è in cartone perché fa parte di questa linea, dove c'è anche lo spazzolino in bambù, diciamo più ecologica ed etica. È certificato EcoCert e si vanta di avere all'interno soltanto ingredienti essenziali e funzionali per i nostri denti, quindi niente coloranti o cose appunto superflue, e di avere insomma tutto un altro aspetto, un altro impatto. Loro scrivono sulla scatola tra l'altro che entro il 2025 vogliono rendere tutti i packaging, i prodotti completamente biodegradabili, vediamo. Ad esempio il tubetto all'interno che è il classico 75 ml è in plastica. Noto però che è una plastica più morbida e più leggera, quindi dei duco che potrebbe essere meno plastica. Ho pensato inizialmente avrebbero potuto farlo di alluminio, però effettivamente l'alluminio se non è pulito, comunque non è riciclabile da quello che ho letto nella raccolta differenziata e uno dovrebbe prendersi la briga di aprire il tubetto, lavarlo, non so quante persone effettivamente lo farebbero. Qui col discorso della plastica magari uno almeno lo mette nella plastica, sperano ci sia sempre la differenziata nel comune. Comunque io l'ho testato, specialmente in un momento delicato come questo devo dire che mi è piaciuto, ha un sapore di menta sì, ma non che manda a fuoco la bocca. Loro stessi scrivono sul tubetto che non ci sono SLS. Io non vi so dare delle informazioni ben precise, ma ve la butto lì così potete magari parlare con il vostro dentista, se avete questa curiosità, o cercare delle informazioni scientifiche provate, ovvero che gli SLS sarebbero corresponsabili di un eventuale ritiro delle gengive. Io non vi so dire altro, però ve la butto lì perché giustamente uno lo compra, legge questa cosa e dice e quindi perché gli altri ce l'hanno, cosa fa di strano, di cattivo, tutto qua. Non ho preso lo spazzolino perché ho ancora i miei spazzolini di bambù acquistati precedentemente, quindi non ne ho bisogno, ma credo che proverò anche quello. Questo ve lo mostro velocissimo, anzi queste sono le saponette Marsiglia dei Provenzali, è un formato conveniente perché sono 150 grammi per ogni saponetta e costano davvero poco, quindi come Marsiglia economico è fantastico. Tra l'altro vi do una dritta, questa è farina del mio sacco. Il Marsiglia ha questo odore particolare, che io chiamo di pulito, però in realtà sarebbe di citronella e aiuta un sacco a tenere lontane le zanzare. Quindi se voi fate una doccia in piena estate e con la saponetta qui e poi uscite di casa, le zanzare per un pochino vi stanno lontane, quindi tentatela questa cosa, provatela, se poi non funziona, non vi piace, vabbè, lo destinerete per le mani. A me piace comunque, mi piace molto. Da vicino a casa mia c'è la fabbrica, due chilometri per la precisione, che produce questa linea Biolist Nature, che è abbastanza famosa perché ha dei gusti fantastici e costa poco e rispetta dei principi, insomma, di ecocompatibilità, dermocompatibilità e così via. Ho deciso di provare questa nuova variante che è Pesca e Pompelmo Rosa, ma non erano le uniche. Intanto si compone di bagno dolce abbinato alla crema corpo, 200 e 250 ml relativamente. Oltre a questo gusto c'erano anche kiwi e limone, che avevo paura fosse troppo aspro, papaya e mango, che pensavo fosse troppo dolce, e cocco e ananas, che non mi piacciono. Quindi ho voluto, diciamo, stare un po' sul misto tra dolce e agrumato, prendendo queste due. Queste linee sono molto, molto, molto buone, quindi io ho grandi aspettative. Al di là del gusto che scegliete, per esempio per la crema le basi sono quasi identiche perché principalmente sono burro di karité e olio di mandorle dolci. Poi ci sono vari estratti differenti e così anche per il bagno schiuma. Quindi loro danno diverse definizioni, tipo vellutante, setificante, energizzante, però, cioè, io sceglierei in base a quello che mi piace, onestamente, e secondo me questo potrebbe valerne la pena. Vi farò sapere perché, cioè dai, sono anche tanto belli. Vi mostro velocemente gli ultimi acquisti che sono anche un po' quelli meno interessanti. Salviettine intime, biodegradabili, importantissime se ci si reca al toilet fuori di casa, immancabili in borsa, sempre della Bioliss Nature, ho scelto quelle più biodegradabili possibili, insomma. Poi cuffia da doccia, 99 centesimi soltanto, e sono quelle che durano una vita. Io sto rimpiazzando la mia dopo 6-7 anni, preferisco queste rispetto alle usegetta e poi anche se dovessi allontanarmi da casa comunque le porto dietro, non vado a usare le usegetta. Poi, una scelta un po' costretta per motivi che non vi sto a spiegare, ho mosso tutto, è una spugna. Questa si può gettare non nel secco non riciclabile, bensì almeno nella plastica. Io le spugne non le userei nemmeno, l'ho dovuta prendere per dei motivi che vi spiegherò. Ho cercato un buon compromesso tra i 10 euro della spugna ultranaturale, biodegradabile, biologica, bla bla bla, e questa, che è costata 2,50 euro. Cioè, uno deve anche guardare a un certo punto anche le proprie tasche, anche perché per quella che userò, per quello che la dovrò usare, durerà parecchio. Non ne sono molto contenta, cioè non è uno di quegli acquisti di cui vado proprio fiera. però sono stata lì 30 minuti, penso a cercare di capire quale fosse il male minore e per me lo è stato questa spugna. Quindi, abbiamo visto un po' gli acquisti e li abbiamo commentati. Nel prossimo video, o in uno dei prossimi, devo decidere un attimo, perché mi sto, insomma, facendo una bella scaletta importante, parleremo del discorso della dermatite a livello del corpo. Ricordatevi l'ossido di zinco. Poi vi volevo domandare se vi poteva far piacere, ogni tanto, cioè non è che io ci... lo faccio proprio per divertimento, un format, pensavo, in cui parlare di 5 canzoni in 5 minuti. 5 canzoni che magari mi piacciono particolarmente, oppure che ho scoperto o che sono presenti da sempre nelle mie playlist, prese da vari anni, perché io vado veramente dagli anni 60 fino a oggi, anche domani. Fatemi sapere se può essere una cosa carina per farvi scoprire le canzoni veramente 5 in 5 minuti. Pensavo a una cosa così veloce per variare anche un po' l'argomento del canale. Grazie per avermi seguita, l'antidolorifico ha fatto effetto. Noi ci vediamo, se vorrete, la prossima volta o comunque su Instagram. Ciao!